Nata a Porto Guraro, in provincia di Venezia, il 3 gennaio del 1974, Marta Zanetti è un'atleta azzura di vela paralimpica. È in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Gialle dal 2015. Marta è da sempre una grande appassionata di sport. Prima di approdare la vela, infatti, si è dedicata per anni al tennis tavolo dove ha tenuto numerosi successi. In seguito alla mutazione della coscia destra, a causa di un incidente automobilistico, Marta non ha abbandonato il suo amore per lo sport. A partire dalle Paralimpiadi di Londra 2012, la carriera sportiva di Marta Zanetti ha preso piede sempre di più. Dopo il quinto posto ottenuto in occasione dei giochi londinesi, nel 2013, insieme al suo compagno di navigazione Marco Gualandris, conquista un argento ai mondiali di Kinsai, in Irlanda. Nel 2014 e nel 2015 arrivano poi altre due medaglie di bronzo. La prima ai mondiali di Nova Scotia è la seconda nel 2015 ai mondiali di Melbourne.